Tante volte guardiamo i telegiornali, le copertine dei giornali, le tragedie, ma guarda, in quel paese i bambini non hanno da mangiare, in quel paese i bambini fanno da soldati, in quel paese le donne sono schiavizzate, in quel paese, quale calamità, povera gente, volto pagina e passo al romanzo, alla novela lì che viene dopo, e questo non è cristiano, è la domanda che io farei guardando questo a tutti, anche a me. Io sono capace di avere compassione, di pregare. Quando vedo queste cose, mi le portano a casa per la tv. Le viscere si muove, il cuore battisce con quella gente, o sento pena, dico povera gente, e così. E se non può avere compassione, chiede la grazia. Signore, dammi la grazia della compassione.